Buonasera, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo con l'apertura, il taglio del nastro di oro. Arezzo torna a brillare per la più importante manifestazione del settore orafo e della gioielleria. Da oggi 16 maggio Arezzo e Fiere e Congressi torna ad ospitare Oro Arezzo. Viene qui tutto il mondo ma di fatto non può che essere così perché il 90% di quanto viene prodotto in Italia per quanto riguarda orificeria e gioielleria va all'estero, quindi è l'estero che compra principalmente e l'estero che sarà qui. Oltre 350 gli espositori in mostra, 400 invece i buyers internazionali provenienti da 55 paesi. Sono questi i numeri della ripresa di Oro Arezzo, quest'anno alla sua 42esima edizione. Hong Kong. We just arrived so we still wonder. Questo è un punto di riferimento in Italia e a livello internazionale e dà il senso di una vitalità e di una capacità di rilancio, di ripresa di Arezzo che poi è tonificante per tutta la regione toscana. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group, promuove la produzione orafo e gioielliera made in Italy quest'anno anche con una nuova veste. Per renderlo più fruibile, per renderlo più elegante, per renderlo veramente all'altezza di quel settore del lusso che deve essere rappresentato in un certo modo. Arezzo nel 2022 si è confermata prima provincia esportatrice di beni preziosi con 3,2 miliardi di euro, pari al 31% del totale nazionale. Quindi è un comparto il più importante d'Italia e adesso però cominciamo a intravedere qualche piccolo rallentamento dovuto principalmente all'oscillazione del prezzo delle materie prime e il prezzo dell'oro. È un momento un pochino complicato, un po' un momento di fermo, un po' generalizzato. L'auspicio comunque è quello di lavorare. Torna infine anche quest'anno il concorso premier, il tema è la luce ed è aperto per la prima volta agli studenti delle scuole orafe con la nuova categoria Talents. Quale miglior cosa può esprimere la luce? Un gioiello, un gioiello che indossa una donna, un gioiello che dia stile. Quindi sono questi oggetti meravigliosi qua davanti che vediamo e tutti hanno un suo perché. Dalla regione toscana arrivano nuove risorse per la realizzazione di residenze terapeutiche per l'esecuzione delle misure di sicurezza nella salute mentale. Una di queste aprirà anche ad Arezzo. Chiara Sadotti. Una REMS, una residenza terapeutica per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sarà aperta anche ad Arezzo. Ad annunciarlo la giunta regionale che ha rimodulato il programma di interventi destinati a superare gli ospedali psichiatrici giudiziari aboliti nel 2013 attraverso la realizzazione delle REMS. Ad Arezzo saranno così investiti 800.000 euro per una residenza sanitaria intermedia che potrà ospitare sino a 16 persone. La rimodulazione, spiega l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, consentirà nei prossimi anni di arrivare ad avere complessivamente in Toscana 60 posti letto nelle residenze sanitarie con sorveglianza intensiva, le cosiddette REMS, e 105 posti nelle residenze sanitarie intermedie, quindi 21 e 46 posti in più rispetto agli attuali. Si tratta di interventi da realizzare nel meglio termine i cui effetti si potranno vedere già entro la fine del prossimo autunno. Il programma per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari conta complessivamente 9 interventi in Toscana, di cui 5 soggetti a finanziamento ministeriale e 4 no. Parliamo adesso di Ponte Buriano. È stato presentato il progetto definitivo del Bypass Bis sull'Arno per liberare dal traffico l'antico ponte romanico e preservarlo da ulteriore deterioramento, un progetto che vale 21 milioni di euro. Sentiamo. Si tratta di un'opera estremamente importante sia dal punto di vista del valore culturale ma anche dal punto di vista strategico per un territorio come quella retino. Che sia il ponte che sta dietro la Giocondo oppure no, Ponte Buriano resta comunque uno dei nodi viari più importanti verso Valdarno e Casentino, ma anche e soprattutto un'opera da tutelare. Solo a livello paesaggistico rappresenta identità retina, indipendentemente poi da Leonardo e io credo che su quel contesto anche ambientale si possano creare le condizioni sempre per uno sviluppo maggiore che sia quello ambientale, che sia quello naturalmente del percorso fiuriale. Nella settimana delle dispute con il valdarnese Ponte Romito arriva la presentazione del progetto definitivo che potrebbe nascere a poche centinaia di metri dall'antica opera romanica presentato nel corso del convegno Ponte Buriano, una storia che guarda il futuro in modo sostenibile. È un ponte formato principalmente da 5 campate di cui la principale di 80 metri e le altre di 4 e la particolarità è che non ha delle pile in albio quindi dal punto di vista idraulico è un ponte sicuro perché effettivamente ci spostiamo più in là del fiume. Lo scorso gennaio erano iniziati lavori per la realizzazione del Ponte Guado provvisorio. Il prossimo passaggio sarà quello definitivo per un costo complessivo di 21 milioni di euro con tempi di realizzazione previsti di circa 28 mesi dall'inizio ai lavori nell'ipotesi in cui verranno reperite risorse necessarie entro la fine di quest'anno. Insomma, una corsa contro il tempo. Eh sì, la partita è esattamente questa. Non so se lo strumento sarà un aggiornamento della convenzione che abbiamo sottoscritto con il Ministero o anche il reperimento di risorse da parte dell'Unione Europea. Comunque questa anche per la Regione Toscana è una priorità perché non è solo una soluzione di viabilità che necessita questo territorio ma davvero ha un valore culturale inestimabile. Le proposte di progettazione nell'ambito del concorso bandito nell'aprile 2021 sono adesso in mostra nell'atrio d'onore del Palazzo della Provincia di Arezzo sino al 31 maggio. In occasione della festa della mamma che ricorre domani, 14 maggio, la nostra emittente ha scelto di raccontare la storia di alcune mamme speciali. Intanto ve ne diamo una piccola anticipazione. Grazie a Settimelli. Continuamente chiedo dov'è, se sabato non vieni, domenica non vieni perché c'è anche questo rapporto che è un rapporto forte ormai. Poi se sono all'attezza, io visto che non ho figli, non lo so, ma mi sembra che quello che si può dare si dà senza stare a pensare se sei madre o sei madre. Ivona è una donna single, mamma affidataria ormai da tanti anni, la sua, come quella di Anna Lisa, mamma biologica, affidataria e mamma ponte, o quella di Susanna, mamma adottiva, sono storie che abbiamo scelto di raccontare in occasione del 14 maggio, festa della mamma. Un mondo quello dell'adozione, dell'affido familiare, che difficilmente è sotto i riflettori, per ovvie ragioni di privacy e di tutela dei minori, che portano con sé storie dolorose e delicate e delle loro famiglie. Tra le modalità indubbiamente più particolari dell'affido familiare, c'è la famiglia Ponte, una famiglia, una mamma, che può mettersi a disposizione per accogliere un bambino da zero a sei anni e solo per un tempo determinato, di solito dai sei mesi ad un anno, nell'attesa che il Tribunale per i minori e i servizi sociali trovino per lui la soluzione di vita definitiva, il rientro in famiglia di origine, l'adozione o l'affido. C'è proprio l'esigenza di mantenere un ambiente familiare che possa facilitare appunto e non interrompere i legami di attaccamento di cui i bambini neonati hanno necessità e allo stesso tempo che sia consapevole che il percorso è temporaneo e che si sta in vari punti di questo ponte, si sta all'inizio del ponte a metà e poi si arriva dall'altra parte dove appunto non solo c'è l'accoglienza di questo bambino ma l'accoglienza anche della famiglia che sia quella biologica piuttosto che una famiglia adottiva o affidataria per facilitare appunto questo processo di non interruzione dei legami questo anche a livello proprio psicologico profondo. Susanna ha scelto l'adozione internazionale i suoi due bambini arrivano dalla Russia, San Pietroburgo dove lei stessa con suo marito è andata a prenderli dopo un lungo e faticoso percorso. Fai tre viaggi perché fai un primo viaggio dove vai a conoscere il bambino una settimana torni poi ti richiamano per l'udienza non sai quando ti richiamano a me mi hanno chiamato entrambe le volte dopo 4, 5, 6 mesi e torni a prenderlo quindi fai un terzo viaggio per andarlo a prenderlo quando la sentenza è diventata definitiva dopo 30, 40, 50 giorni dal secondo viaggio e quindi è faticoso perché tutte le volte tu lo incontri in istituto ci stai una settimana e poi lo lasci lì ti assicuro che appena lo vedi appena lo prendi in braccio è figlio tuo immediatamente immediatamente Ad Arezzo ci sono diverse realtà associative una rete che fa capo ad affidare coordinamento affido Arezzo è con la sua referente Giuliana Aquilanti che cerchiamo di capire quali sono i temi più urgenti ai quali ancora trovare una risposta La solitudine delle famiglie è una questione delicata perché questo è un tema che riguarda tutti i genitori quando i genitori anche biologici si lamenta che si sentono soli di fronte ai bisogni anche educativi dei piccoli un maggior potere però con questa accezione di maggiori possibilità di esercitare la genitorialità affidataria a garanzia dei diritti dei bambini non personale e degli adulti e poi anche e non ultimo siccome è temporaneo l'affidamento familiare lavorare sul recupero delle capacità residue genitoriali dei genitori biologici perché in effetti poi cosa accade che non lavorando non avendo risorse professionali nelle istituzioni per aiutare i genitori a superare la criticità che ha portato all'allontanamento dei bambini gli affidamenti da temporanei diventano sinedie e quindi fino a 18 anni e qui si apre tutta un'altra questione di tipo poi e questi figlioli alla fine diventano uno nessuno centomila e questa sera e domani a partire dalle ore 21 la nostra emittente manderà in onda uno speciale dedicato a queste mamme speciali dove conosceremo più a fondo la loro storia bene adesso passiamo ad un altro argomento parliamo di spettacolo si intitola Vinca il peggiore è uno spettacolo con Leonardo Pieraccioni e l'orchestra Sarabanda in scena stasera alle ore 21 al teatro Tenda di Arezzo si tratta di un evento di solidarietà grazie all'iniziativa di Don Giuliano Faragli e Solidarietà in Buone Mani con l'obiettivo di raccogliere fondi per la costruzione di una scuola in Sierra Leone sarebbe questa la terza due sono già state realizzate con spettacoli dello stesso tipo c'è da divertirsi è parecchio ed è vietato non venire ha scritto sui social Pieraccioni Solidarietà in Buone Mani è un'associazione fondata dal compianto missionario padre Arturo Buresti vent'anni fa ed è oggi guidata da Don Giuliano parroco di Montecchio Vesponi domenica 21 maggio torna la giornata nazionale dell'associazione di more storiche italiane giunta quest'anno alla tredicesima edizione su oltre 500 monumenti nazionali che aprono 120 sono in Toscana distribuiti in tutte le province 11 nella sola provincia di Arezzo Castelli, Rocche Ville, Parchi e Giardini sono visitabili gratuitamente e la giornata nazionale adzi è occasione per riscoprire le bellezze nascoste del nostro paese nella nostra provincia tra i siti che aderiranno all'iniziativa ci saranno la casa Museo Ivan Bruschi i castelli Monte Beninichi di Gargonza di Montozzi quello di Montecchio e quello dei conti guidi di Castelle San Nicolò a circolo artistico fino al prossimo 17 maggio in esposizione la collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini Quattro artisti ma diversi tra loro questo il titolo della mostra collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini associazione culturale che ormai da anni mira a diffondere ed ampliare la conoscenza dell'arte nelle sue molteplici forme dando modo a chiunque di avvicinarsi per contribuire alla crescita culturale del territorio Aretino Abbiamo artisti di vario genere il primo per esempio abbiamo il signor Dragoni Cesare che è un artista che si occupa più che altro di arte astratta fatta diciamo di arte povera ma in chiave astratta poi ci sono anch'io che in arte mi chiamo Vento e faccio diciamo più una pittura dedicata al primitivismo in chiave medievale Poi abbiamo la Gaisina Francesca invece che anche lei si occupa di pittura più formale più moderna ma formale Abbiamo anche un altro artista che è il Panichi Fabio che invece tratta una pittura diciamo più formale paesaggistica e anche in qualche modo fatta di paesaggi ma non solo anche di arte in generale Le opere sono ospitate al circolo artistico resteranno in esposizione sino al prossimo 17 maggio Ed è lutto a Frassineto dove era paroco ma anche a San Zeno a Derezzo per la scomparsa al termine di una lunga malattia di Don Fortunato Bardelli classe 1946 76 anni era molto conosciuto e amato nella retina per generosità ed impegno sociale stato insegnante di religione per oltre 20 anni all'istituto tecnico commerciale Buonarroti autore di commedie teatrali popolari e soprattutto ideatore della rappresentazione della Via Crucis e la passione sulla collina di San Zeno il Venerdì Santo ormai celebre rappresentazione scritta dalle sacerdote con decine e decine di figuranti ed attori è stato missionario in Sudamedica e con il sostegno di imprenditori Orafi Arettini aveva accolto in un centro nel Brasile e avviato al lavoro centinaia di ragazzi nelle favelas domani alle 16 parliamo di calcio anzi apriamo una pagina abbastanza consistente per quello che riguarda l'Arezzo calcio domani alle 16 allo stadio comunale cittadino andrà in scena la prima gara degli Amaranto nella pool scudetto di serie D contro la Giana Erminio vincere potrebbe voler dire ipotecare la qualificazione il girone è a tre squadre chi perde la prima partita compromette seriamente la speranza di qualificazione dunque sarà fondamentale approcciare bene la gara e interpretarla in modo giusto tenendo alta la soglia di attenzione perché più alto è il livello dei 90 minuti e più c'è possibilità di passare il turno per quello che riguarda la formazione Cantisani potrebbe essere schierato subito all'attacco Gaddini e Poggesi invece sono infortunati e non ci saranno Damiani è ancora in forza e reduce dalla forte contusione allo zigomo rimediata contro il Trestina 15 giorni fa Trombini tornerà tra i pali mister indiani sicuramente più rilassato dopo la conquista della serie C sembra non preoccuparsi troppo per la gara ma piuttosto dei tempi di questa lunga fase che si concluderà a giugno in oltranto sentiamo proprio la voce del mister Amaranto abbiamo sempre fatto sul serio è chiaro dopo la vittoria di campionato ma sul serio sempre no se no sembrerebbe che questi tre partite siamo andati a sul serio abbiamo fatto e cerchiamo di farlo anche domani è chiaro è sempre il solito discorso se dicessi se le stimoli le motivazioni sono uguali a quelle di campionato di giorno della pianese passerei per matto non è così e credo ci sia anche differenza tra chi vince il campionato l'ultimo giornato quasi e chi lo vince un mese prima da questo punto di vista sicuramente vincendo un mese prima è lunga arrivare alla Fusco detto però è chiaro che cercheremo di trovare quei fuochi elementi che sono rimasti perché ora è chiaro tanta scelta non l'abbiamo però quei fuochi elementi che sono rimasti cercheremo di trovare quelli che hanno sempre come si dice qualcosa in più rispetto come motivazioni e come condizioni anche fisiche perché ora è un'altra molto molta che veda cerchiamo di mettere in campo la formazione migliore di quelli che sono rimasti disponibili in condizioni accettabili ecco per esempio l'ho detto prima un altro indisponibile sicuro è presato perché l'aveva fatta tutta e finora ha preso una volta domenica e non si è malenato lui molto probabilmente avrebbe rigiolato ecco però cerchiamo di mettere in campo la formazione migliore indipendentemente da chi aveva meno minutaggio o più minutaggio perché è chiaro nessuno gioca a perdere nessuno gioca a perdere però io l'ho già fatta altre volte queste con il sacco scudetto è nessuno ma credo nemmeno altre squadre 9 su 10 arriva al finale le due e qualche circostanza la portai lì più o meno più o meno è così perché poi credo ci sia anche un cioè come discorso di playoff di Serecino è uguale qui non puoi aspettare a questo punto cioè ora dovrebbe essere subito domenica mercoledì domenica mercoledì domenica subito allora avrebbe un senso cioè arrivai il 10 di giugno finale il 10 di giugno io ho vinto i campionati il 16 di aprile rimaniamo in casa Arezzo perché è stato assegnato il cavallino d'oro di quest'anno dal quartiere di Porta Santo Spirito è stato quindi Mirco Lazzarini ad aggiudicarselo il difensore Amaranto dopo aver disputato una stagione perfetta scrive il suo nome nell'albo d'oro del premio calcistico più antico d'Italia quest'anno alla sua 66 edizione Mirco Lazzarini entra di diritto nella storia dell'Arezzo calcio a fianco di giocatori del vincitore di questo trofeo come Tassinari Neri Pellicano Orsi Tovalieri Floro Flores e Moscardelli la cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 25 maggio alle ore 21 e 15 al museo del quartiere di Porta Santo Spirito ad Arezzo il premio Cavallino d'oro nacque nel 1958 da un'idea del rettore del quartiere della Colombina Giulio Teoni l'obiettivo era quello di assegnare un riconoscimento al giocatore dell'Unione Sportiva Arezzo che si fosse distinto per il maggiore e migliore rendimento sia dal lato tecnico che da quello agonistico nel campionato appena terminato il premio il primo a vincere questo trofeo il Cavallino d'oro fu Gianfranco Bozzao e ancora calcio Arezzo rimaniamo quindi in Amaranto una partita all'insegna dell'inclusione sociale tra salute mentale e sport si è svolta in settimana grazie all'iniziativa promossa dalla società sportiva Arezzo il dipartimento di salute mentale Asla Toscana Sud-Est e l'associazione di promozione sociale Colle del Pionta vediamo Giovedì scorso ai campi di allenamento della società sportiva Arezzo in occasione del ventennale della squadra della salute mentale Pionta Arezzo si è svolta una partita di calcio all'insegna dell'inclusione sociale e all'abbattimento dello stigma tra Juniores dell'Arezzo Calcio e l'associazione di promozione sociale Colle del Pionta composta da utenti operatori e volontari del dipartimento di salute mentale Aretino dell'Asla Toscana Sud-Est il tutto organizzato in collaborazione con Electra Centro Clà le due squadre tra prima si sono affrontate con la loro maglia identitaria in Amaranto ovviamente la Juniores dell'Arezzo reduce della vittoria del campionato e in completino bianco il Pionta la partita è terminata 3 a 1 per l'Arezzo poi le due compagini si sono mescolate ed hanno dato origine a una bella competizione combattuta la pioggia battente non ha rovinato la festa anzi ha motivato ancora di più i giocatori speciali e i giovani Amaranto a fare bella figura soddisfatti tutti alla fine giocatori ed organizzatori l'iniziativa oltre a determinare l'inizio dei festeggiamenti dei 20 anni di esistenza in Casa Pionta è stata l'occasione per la firma del sudalizio Amaranto con questa realtà infatti la società sportiva Arezzo con un documento approvato bilateralmente per l'Asla Toscana Sud-Est ha dato il via a una collaborazione per realizzare attività sportive appositamente organizzate per utenti speciali con disagio psichico in ambito locale e nazionale sotto la bandiera Amaranto dell'Arezzo e chiudiamo con il calcio femminile parliamo di serie B con la salvezza acquisita con quattro turni d'anticipo e dopo la sconfitta interna contro il Cittadella di città Amaranto preparano il rush finale in campionato domani le ragazze di mister Testini saranno di scena Napoli contro la capolista Napoli femminile il calcio d'inizio sarà alle ore 15 al centro sportivo Cercola la CF Arezzo dovrà fare a meno delle infortunate Costantino ed Alessandro e Vicchiarello mentre tornerà a disposizione del tecnico Amaranto Zazzera questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito a voi tutti buona serata con i nostri programmi